l'attrito viscoso Allora, voglio aggiungere l'attrito viscoso quindi mettete il vostro oscillatore forzato dentro un pistone dove c'è un fluido Quindi questo è un oscillatore forzato in presenza di un fluido viscoso quindi ci sarà attrito viscoso D'accordo? Aspetta che c'è L'erce di Newton è una superficie di quale forza quale forza? Ho tre pezzi uno della molla uno dell'attrito viscoso e uno della forza applicata Quindi immaginate sul cilindro con due passanti a tenuta di fluido quindi da un lato deve entrare la molla e dall'altro deve entrare l'asta attraverso la quale comunicate la forza applicata Meccanici potete sbizzarrirvi a pensare Quindi questa è l'equazione di Newton stiamo considerando una forza applicata che dipende dal t per maniera cosenoidale quindi di nuovo F0 è chiamata l'ampiezza della forza Omega F è la pulsazione della forza ma la Omega F è un valore la pedice F sta per forzato è un valore arbitrario invece Omega 0 è la pulsazione naturale ok? Quindi la pulsazione naturale è K diviso M D'accordo? quindi io uso questa notazione perché è una combinazione di parametri a voi molto familiare quindi io scrivo così poi scrivo così quindi ho messo a sinistra tutto quello che dipende da x lasciando a destra quello che non dipende da x ho fatto la parte forzante divido per M d'accordo? e dico ok di nuovo io vedo se spengo le luci vedo la massa andare avanti e indietro con una certa ampiezza e con una certa pulsazione io la vedo con i miei occhi è forzato sono io a forzarlo ad andare così sono io a forzarlo ad andare così sono io a forzarlo ad andare così quindi io prendo questo e cerco di capire cosa imparo forzando questa soluzione? imparo che se forzo questo qua forzo questo qua metto questo qua che questo deve essere uguale a F0 diviso M d'accordo? quindi questo d'accordo ma questo c'è qui come c'è anche qui quindi questi certamente non contribuiscono all'equalianza c'è su entrambi i lati potete dividere certo perché è sempre diverso da zero e quindi vi rimane la condizione vi rimane la condizione che X0 questa ampiezza non è arbitraria ma dipende da Omega F e la dipendenza è questa qua avete F0 diviso M 1 diviso Omega 0 al quadrato meno Omega F al quadrato più I Omega F c'è qualche pezzo che manca? cos'è questo? questo è un errore ovviamente perché manca B B diviso manca questo e manca anche la K ho sbagliato il b quindi cosa ho? ho portato in evidenza questo questo rimane e questo c'è ho perso questo pezzo qua quindi era meno Omega F quadrato più B diviso M vabbè c'è la I e Omega F B diviso M e poi c'è più Omega 0 al quadrato quindi manca questo pezzo qua mancava P I diviso M quindi ho A1 fratto Omega 0 al quadrato meno Omega F quadrato I volte Omega F B diviso M d'accordo? ho fatto giusto? è la stessa cosa di prima con in più questo pezzo questa è la novità cioè è questo moltiplicato B diviso M ci siamo? ovviamente questo mi segnala subito una cosa che la x0 questa ampiezza dell'oscillazione ampiezza oscillazione è un numero complesso non è un reale è un numero complesso vedete che c'è una parte c'è una parte immaginale di solito questo non è scritto nel modo usuale no? che si fa a razionalizzare un numero complesso lo si moltiplica, si divide per il complesso moltiplicato giusto? quindi farei farei questo moltiplicato per Omega 0 al quadro meno Omega F quadro meno I Omega F B diviso M diviso per Omega 0 al quadro meno Omega F quadro meno I Omega F B diviso M in modo da scrivere in maniera razionale cioè razionalizzata lo scrivo qua giù quindi Omega X0 dipende da Omega F e adesso lo scriviamo cos'è? è F0 diviso M per Omega 0 al quadro meno Omega F quadro meno I volte B diviso M è Omega F diviso questo che è un numero complesso moltiplicato per il suo complesso congiudato cos'è? è Omega 0 quadro meno Omega F quadro al quadrato più B diviso M Omega F al quadrato ok? questa è la funzione ampiezza evidente che è un numero complesso impariamo qualcosa di interessante non solo che la X0 l'ampiezza dell'oscillazione non è libera non è una funzione arbitraria ma è una funzione Omega F ma addirittura non è un numero reale è un numero complesso che ha un modulo e ha una fase qual'è il modulo di questo? qual'è il modulo di X0? la fase è la più facile fase la chiamiamo Phi quindi la tangente di Phi cos'è? la parte immaginaria diviso la parte reale giusto? quindi questa è la parte immaginaria questa parte qua quindi ho meno P diviso M Omega F diviso la parte reale che è Omega 0 quadro meno Omega F quadro e vedete una cosa interessante che cosa succede alla fase quando siete in risonanza? cos'è risonanza? è quando la frequenza di forzatura è esattamente uguale a quella naturale cosa succede? che la tangente è infinito e che angolo è? quindi c'è una fase quindi il disegno forse è più facile fare permettetemi di fare questo disegno qua quindi prima devo riscrivere la formula che ho appena creato cos'era? era 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 che cosa succede? che cosa succede? prima di cancellare quegli E E alla I Omega Ft pensate cos'è E alla I Omega Ft sostanzialmente è il numero di olero che sta girando in senso anti-orario giusto? quindi adesso io vi faccio un disegno intanto la cosa interessante proviamo a scrivere questo mi sta dicendo che l'ampiezza è un numero complesso che è sfasato rispetto alla forza ha una fase rispetto alla forza e la fase è Fi ed è indietro è sfasato indietro non anticipa ma è in ritardo sulla F quindi io la disegno così ho la F0 diviso M magari questo lo scrivo così la disegno F0 diviso M aspettate un attimo devo pensare devo evitare di dire i significati prima la disegno poi la comenta credo che sia la cosa così in più Grazie. Tutto questo disegno dovete pensarlo come sta ruotando in senso anti-orario, questo è un disegno nel piano del numero complesso, se volete questo è l'origine dei numeri complessi, questo è l'origine e questo disegno sta girando in senso anti-orario perché tutto va moltiplicato per questo. E cosa mi sta dicendo questo? Il giramento del numero dell'erro è dato da quei pezzi, guardate il resto, mi sta dicendo che questo più questo più questo deve essere uguale a F0 di so m, però guardate questo qui è X0ω0t più, questo è meno di là e questo qui è a 90 gradi, perché a 90 gradi? Perché se questi sono reali questo è un immaginario e i numeri immaginari sono a 90 gradi rispetto ai numeri reali, vedete come funziona il disegno? Questo disegno vi dà le formule corrette, vi dà lo sfasamento, vi dà anche l'ampiezza, vi dà il modulo, se io vi chiedo di scrivere il modulo voi lo fate molto facilmente là. Questa distanza qua cos'è? Questa distanza qua è X0 per ω0 quadro meno ωf quadro, giusto? Questa roba qua, questa roba qua, questa quant'è? E quindi cos'è questo? Quindi avete F0 diviso m al quadrato è uguale a questo al quadrato, quindi X0 al quadrato per questo al quadrato, ω0 quadro meno ωf quadro al quadrato, questo al quadrato, più questo al quadrato, più questo al quadrato, quindi X0 al quadrato, V diviso m ωf, tutto questo al quadrato. E quindi capite che X0 quadro è uguale a F0 diviso m al quadrato, d'accordo? diviso un po' di roba, quindi devo dividere questo, no? E quindi il modulo di X è per l'appunto F0 diviso m, 1 diviso la radice quadrata di quella roba là, A che è ω0 al quadrato meno ωf al quadrato al quadrato, più B diviso m ωf al quadrato. Sembra una formula difficile da ricordare, e lo sono, però se uno ha il disegno sotto mano, lo fa subito, no? Le mie mani, le mie mani, guardate queste due formule qua, dov'è di che devo fare la linea con la track? Queste due formule qua sono difficili da ricordare, però se avete il disegno si decavano subito, non mi pare? Qual è la fase? Questo è l'angolo, vedete che questo sta girando, F0 diviso m è un numero complesso che sta girando, questa freccia qui è un numero complesso che sta girando pure, ma è in ritardo! L'angolo è dietro, la forza diviso la massa sta girando a un angolo teta in anticipo, tutto questo sta girando, quindi questo sta girando, ma questo è in ritardo, ma con la stessa stanno girando così, in ritardo questo angolo teta quanto vale? Il tangente di questo angolo cos'è? Questo fratto quello, vedete? Ma c'è il segno meno perché è in ritardo, capite o non capite? Il cavallo è semplice, le formule sono difficili da ricordare, il cavallo è facile, quindi se non mi credete continuate i passaggi, questo è il numero complesso, calcolate il modulo Convincetevi che il modulo di questo è questa formula qua e che la fase di questo numero complesso è questa qua Come si fa la fase? La parte immaginaria divisa la parte reale, questo non si piove, calcolate dunque il modulo di questo Come si fa a fare il modulo? Si moltiplica il numero complesso per il suo complesso coniugato e si estrae la rodice quadrata, fatela dunque E verificate che questa è la formula Poi dopo aver capito, ah i passaggi sono semplici, certo che il risultato è difficile da ricordare, l'unico modo per ottenerlo è rifare i passaggi, va bene Se avete 10 minuti di tempo, 5 minuti, se siete veloci, non riacciate Oppure pensate al disegno, il disegno ve lo dà in 30 secondi Certo se ricordate il disegno, ma forse il disegno è più facile ricordare Avete la freccia che rappresenta questo E questa freccia è uguale a questa freccia Eccola qua, rac Più questa freccia che è pure parallela a questa ma è antiparallela E c'è questa freccia qua E questa freccia qua non è un numero reale, è un numero immaginario Quindi è a 90 gradi rispetto ai numeri reali E quindi quando vedete una I dovete andare su a 90 gradi Eccola qua Quindi questo più questo più questo L'angolo è sfasato in ritardo Quindi in questa formula qua, in questa rappresentazione Questo pezzo rosso è in ritardo Tutto questo disegno sta girando a questo A quell'andamento Perché è il numero di all'ero, siamo nel piano dei numeri complessi Quindi è un trucco questo Fatto il tesoro di questo trucco Forse quello che vi ho fatto riuscirete a riciclare degli altri corsi Va bene? Allora si dimostra Ma non lo faccio io E non lo chiedono a meno Che l'ampiezza L'ampiezza non è massima Quando Omega F è uguale a Omega 0 Lo è solo quando non c'è attrito Cioè se B è uguale a 0 Se B è uguale a 0 Allora l'ampiezza diverge Per Omega F uguale a Omega 0 E quello è il picco massimo Se c'è attrito L'ampiezza massima non è proprio alla frequenza di risonanza Cosa intendo per frequenza di risonanza? La frequenza di risonanza è Omega 0 La frequenza di risonanza è la frequenza naturale dell'oscillatore Quella è la frequenza di risonanza La frequenza del palo La frequenza della massa a 4 a 4 molla Quella frequenza con cui Lui si è lasciato oscillare da solo Se lo forzo a dare proprio quella frequenza la O il fenomeno di risonanza In presenza di attrito In presenza di attrito viscoso L'ampiezza massima non è proprio Omega F È proprio Omega 0 Invece se vi chiedo qual è la frequenza A cui l'energia massima L'energia massima dell'oscillatore Quello è Omega 0 Quindi a rigore il disegno dell'ampiezza È una cosa del genere Quindi se questo vuole rappresentare In funzione di Omega F L'ampiezza Quindi quello che ho chiamato X0 Omega F E se questa è la frequenza di risonanza Omega 0 So che quando Omega F È uguale a 0 La mia ampiezza vale un certo valore Cosa vale? Vale F0 diviso K Questo è il valore di deformazione della molla Se io applico un certo numero di Newton Di quanto è deformata la molla F0 diviso K Quello è l'ampiezza Sto andando molto lentamente Se io muovo la mano molto lentamente Questo se io vado giù 10 cm Quello va giù 10 cm Quindi l'ampiezza di oscillazione È dato dall'ampiezza della forza Diviso K Quando Omega F è piccolo Quando Omega F è infinito So che il mio grafico Non va da nessuna parte Quindi quando Omega F è molto grande Io so che la mia ampiezza è qua giù Cosa fa? Quando l'attrito non c'è Allora qua ho una divergenza Lui va su Va su Diverge E il grafico ha un aspetto di questo tipo Va a 0 l'ampiezza Quando ho una frequenza di oscillazione troppo veloce Va a F0 diviso K Quando ho una frequenza di forzatura molto bassa E ho una divergenza quando Omega F è proprio uguale Omega 0 Ma in presenza di attrito Il grafico è leggermente diverso Il grafico è una cosa del genere C'è un massimo Se permette di disegnarlo Perché ovviamente Io sto disegnando liberamente In rete o nei libri Trovate disegni fatti per bene Il grafico è una spezza leggere Ah intanto è molto più Devo fare il disegno meglio quello in presenza di In essenza di attrito Quindi va su in maniera molto spettacolare Ok? Per l'intervallo di valori abbastanza piccolo Lui schizza su In presenza di attrito la cosa è un po' così Lui va su Di nuovo non voglio sovrapporlo Perché non so farlo Questo a mano libera Vorrei fare dei conti Con il computer Vedi? Lui va su Trova un massimo E poi scende giù E il massimo non è proprio uguale Omega F È leggermente più basso E più l'attrito diventa piccolo Più questa curva si avvicina Al divergere Ok? Più l'attrito è grande Più questa specie di massimo Diventa più sbrodolato E il valore del massimo Si allontana dal valore di Omega 0 Ma se io vi chiedo A quale frequenza L'oscillatore ha più energia Ha più energia Allora il valore della frequenza Di forzatura dove l'oscillatore Ha più energia È a Omega 0 Quindi Si ha il massimo trasferimento Di energia all'oscillatore forzato Quando lo spingete proprio La frequenza naturale È lì dove lui sta Prendendo più energia da voi Cioè basta poca energia Nella mia mano Che io trasferisco tantissima energia All'oscillatore Ok? Qual è la frequenza Alla quale io devo muovere la mano Per avere il massimo trasferimento Di energia all'oscillatore Deve essere proprio Omega 0 Queste sono cose che farete Negli altri corsi Non ho il tempo Di fare questo Ok? Però la matematica base Potete vederlo E forse il messaggio Più carino di tutto questo E guardate qua Guardate la formula dell'ampezza Quando Omega f uguale Omega 0 diverge? No! Perché il numeratore Il denominatore Non è mai 0 Il denominatore Non è mai 0 Quando Omega f uguale Omega 0 Certo questo va a 0 Ma questo rimane Questo sarebbe un Omega 0 Quindi il denominatore Non va mai a 0 Quindi la pieza Non va all'infinito E' l'attrito che vi impedisce Di andare all'infinito Certo! Meno attrito lo è Più l'ampiezza diventerà sempre più grande E solo a rigore Quando l'attrito è 0 Avete un'ampiezza infinita E' l'attrito che vi salva Allora uno si chiede Ok, ecco un elettrone Dentro, non so Un pezzo di rame Sta arrivando Un'onda elettromagnetica C'è un campo elettrico Quindi la situazione adesso è questa Salute! Salute! La situazione è questa Immaginate che ci sia Che so Questo è un modellino Questo è un modellino Di un elettrone Attaccato in qualche modo A un suo nucleo E' un modellino E immaginate Questo elettrone Oltre ad avere una certa massa Certo che ce l'ha Ha una certa carica Una certa carica Q Ok Arriva un'onda elettromagnetica Allora immaginate Che l'elettrone E' solo capace di muoversi così Se volete Rappresenta Il portatore di carica Che è dentro Una molecola Del polaroid O di un'antenna Un pezzo di rame Lui è libero Capace di muoversi così Arriva un'onda elettromagnetica Che è un'onda Che uscilla in questa direzione Quindi Quando il campo elettrico Punta di qua Se Q è maggiore di 0 Lui sente la forza di Lawrence di là Quando il campo elettrico Scilla in quella direzione La forza di Lawrence di là Quindi questo elettrone Per il fatto di essere In presenza di un'onda elettromagnetica E' sballottata avanti e indietro Dov'è l'attrito? Non si può parlare di attrito A livello atomico A livello di cosa vede un elettrone Cosa è che impedisce All'elettrone Al fenomeno di risonanza Cioè se io oscillo Se io arrivo Con un campo elettrico elettrico Che ha una frequenza Che so Scrivo così Cosino di Chiamiamo questo Non so Questa è la direzione X Questa è la direzione X Quindi questo è Io sento Brusio Che mi sta facendo girare In Zebedei Silenzio per cortesia Ma io senza occhiali Non riesco a leggere Io vedo una maragna di grigio Mi sforzo Poi vedete La vedete bene Ma ecco Vedo una Vedo Vedo una Ma la pena che c'è una macchia rosasta Là in fondo Non riesco a capire cosa sia Vedete? Vediamo a che distanza riesco a leggere Qua leggo Qua leggo Là no E la Y Se la X è così La Y magari va bene Allora Attenzione Il campo elettrico Che direzione ha? Ha la direzione Y Con questa direzione? D'accordo? D'accordo? Va bene? Al passare del tempo Il campo elettrico Poi di là Poi di qua Poi di là D'accordo? Quindi questo signore E' forzato a oscillare Ma se la pulsazione Del campo elettrico E' esattamente uguale A Omega 0 Se Omega F E' esattamente uguale A Omega 0 Cioè questo è proprio K diviso m Quell'elettrone L'elettrone Prende un sacco Di energia dal campo Assorbe energia Assorbe energia Cosa impedisce All'ampiezza Di esplodere Di divergere Non c'è attrito Non è che c'è un fluido Viscoso L'elettrone In cui gli elettroni Devono muoversi E' un fenomeno Molto interessante Che dobbiamo trovare Per parlare L'elettrone C'è un meccanismo In cui l'elettrone Perde energia Non è l'attrito L'attrito è un esempio Di forza dissipativa No? L'ho chiamato dissipativa Perché dissipa energia Giusto? L'elettrone ha un modo Di dissipare energia Se prendete un elettrone E la fate accelerare E la fate accelerare Cosa succede Nel campo elettrico? Di nuovo C'è un'onda Vi arrivo Cosa succede? Forse è il caso Di fare un disegno Se voi prendete un elettrone E la muovete Guardate in java Delle onde Del campo elettrico Dove voi spostate O accelerate C'è un'increspatura Del campo elettrico C'è l'increspatura Vi ricordate? E quella increspatura Cosa fa? Porta via energia Quindi E' il fenomeno Del rirraggiamento Se voi prendete Un elettrone E la scuotete Perde energia Si chiama Emissione elettromagnetica Quindi Quell'elettrone Nel momento in cui Viene colpito Dall'onda elettrica Si mette ad oscillare Ma mettendosi ad oscillare Perde energia Ne prende Ma ne perde Per fortuna Ne perde Perché se non lo perdesse Avrei La divergenza infinita Quindi A livello del singolo elettrone Non c'è L'attrito Ma c'è un meccanismo Attraverso il quale Lui perde energia E voglio cercare di Convincevi di questo Un po' alla volta Prima Prima Consideriamo una carica Che si muove A velocità costante A velocità costante Ecco La velocità è un vettore Quindi per me La velocità costante Vuol dire Modulo costante Direzione costante Un moto rettilineo uniforme Velocità costante Un vettore Ok Ecco la direzione Immaginate In un certo momento Avete una carica qua Ok? Una carica che so Vabbè Positiva Una carica positiva Si sta muovendo A velocità costante Allora Si dimostra E Java lo esemplifica Che se la velocità È piccola D'accordo Il campo elettrico Dovete immaginare Le linee di coulomb Che accompagnano la carica È come se ci fossero dei bastoni Rigidi Che fuoriescono dalla carica Come non so Gli alculei del porcospino La carica si muove Con queste linee di campo Che l'accompagnano In che senso? Che Il punto matematico qua Quando la particella è qui Vede le linee di campo Vede Se questo per esempio È un punto matematico Se io disegnassi Questo istante Quando la carica è qua Il campo elettrico è qui Lui disegna una freccia In questa direzione Quando la particella Si è spostata qua Qual è la direzione Del campo elettrico In questo punto? Adesso è questo Quando la particella è qua Adesso è questo Quindi In questo punto Man mano che la particella Si muove Il punto sa Dove puntare Verso la carica Ricordate questo discorso Quindi L'idea è quello Di immaginare Che se questa è la carica Con le linee di campo E questo ad esempio Sono le linee di campo Di una carica Quasi ferma Queste sono le linee di campo Colombiano Potreste immaginare Che queste linee Sono portate assieme Alla particella Proprio come Se ci fosse una pallina Di legno Con dei fori E uno ci mette dentro Gli stuzzicadenti Ok? Gli stuzzicadenti Si accompagnano Rigidamente 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 A patto che La particella Continui In moto Rettilineo Uniforme Perché se un certo momento La particella per esempio Si ferma Cosa succede? Io era difficile per me La presentavo Guardate di nuovo Il giallo Se si ferma di scatto Il punto distante Crede che deve puntare qua Quindi il punto distante Questo è il punto matematico Crede che la linea di campo elettrico Debba andare così Dove questo punterebbe Dove dovrebbe trovarsi Ma in realtà La particella è stata fermata qua Quindi Questa linea di campo qui A un certo momento Fa di fatto Una increspatura D'accordo? Ci sono le famose increspature E l'informazione Che questa Non è qua Ma è qua Si sta propagando lentamente D'accordo? Lentamente La velocità della luce Lentamente è un P però Per gli esseri umani Quindi c'è l'increspatura D'accordo? C'è l'increspatura Per il momento Non blocchiamo la carica Supponiamo che lui Continui ad andare Portando con sé Le sue linee di campo E ogni punto matematico Sa dove guardare D'accordo? Va bene? Allora Questa è una istantanea La particella è qua Immaginate adesso Una superficie Sferica Concentrata Sulla carica Eccola qua Superficie sferica Ok? E su questa superficie Questa è una superficie chiusa Superficie chiusa Superficie chiusa B Ok? Quindi E com'è? E com'è? Campo elettrico com'è? In questi punti qua Per esempio in questo punto qua Com'è il campo elettrico? Il campo elettrico è così Qui Una particella che si muove Che ha una certa velocità In questa direzione È una velocità costante È una corrente Non vi pare? Avete una carica in moto E una carica in moto Crea un campo magnetico Non vi pare? Quindi in questo punto Com'è il campo magnetico? Allora In questo punto il campo magnetico Sta uscendo dalla lavagna Vedete? Pollice rappresenta la corrente La carica si sta spostando così E in questo punto della lavagna Avete il campo magnetico Che esce dalla lavagna E in questo punto speculare Com'è il campo elettrico? Il campo elettrico è così E com'è il campo magnetico là? Entra Quindi qui il campo magnetico esce Quindi magari disegno in colori diversi Magari in verde il campo elettrico Questo è il campo elettrico Il campo magnetico lo dice in rosso Siccome qua sta uscendo Questo è un punto rosso Se è un campo magnetico Esce dalla lavagna Il campo elettrico è così E il campo magnetico invece Sta entrando nella lavagna Quindi qua ho una X Adesso in giallo disegniamo Il vettore E prodotto B E prodotto B E è così B è così Guardate com'è S In che colore avevo deciso di farlo in giallo C'è un giallo qua? Ero qua in giallo S è così Questo è S Notate questa è una sfera Questa qua è una sfera Sfera in italiano con la F Sfera Quindi Adesso disegniamo la freccia gialla qua La S qui Quindi E è così La B è così Mannaggia Sta entrando E quindi la S è così Facciamo un punto qua Facciamo un punto qua Così disegnate la S Allora qua il campo elettrico com'è? In verde Dov'è il verde? Il verde è così Perché è così Il campo magnetico com'è qua? Uscente Rosso Perché mi spariscono i colori? Eccolo qua Ebbè ormai è stato diventato un virtuosismo Quattro colori Giallo, verde, rosso e bianco Qui il campo magnetico sta uscendo Lo vedete? Dovete pensare a una particella in movimento Come una carica in movimento E' una carica in movimento E' una corrente Quindi dovete immaginare Come se questo fosse un filo percorso Da un'unica carica Eh? Il campo per simmetria Dovete pensare Che deve essere così No? Il campo magnetico sta uscendo qua E qua sta entrando Quindi qua avete il campo magnetico Che è entrando E il campo elettrico è così Di nuovo la S qua e qua Come sono messi? Cos'è la S? E' vettor B Quindi la E è così La B è così E la S è così La S è così Com'è la S qua? Anche senza completare il calcolo Con la mano destra Guardate la figura E cercate di anticipare Per simmetria Come sarà? E' così no? Si? Quindi avete E Vedete? Guardate come la S è fatta Guardate questa Attenzione la superficie bianca E' una sfera E se adesso io vi chiedo Qual è il flusso di S attraverso la sfera Concentrica sulla carica Quindi Il flusso attraverso la superficie chiusa Che è la sfera concentrica Concentrica Sulla carica Quanto vale secondo voi? Quanto vale? 0 0 0 cosa? Watt 0 watt 0 Perché 0? Perché se io ho un altro colore Blu Disegno gli elementi di area Di questa sfera Questo è un elemento di area Com'è l'elemento di area? E' orientato da detto ascio fuori Quindi l'elemento di area è così Ed è a 90 gradi rispetto a S Quindi il flusso di S è 0 watt Quindi noi interpretiamo questo risultato Come un modo per cominciare a pensare Il teorema dei pointi Asserendo che la carica che si muove A velocità costante Non irraggia Non perde energia Sotto forma di onde elettromagnetiche Non perde energia Il flusso della densità di corrette di energia Vale 0 Non c'è energia che sta fuoriuscendo Da quella superficie matematica Adesso guardate cosa succede Se invece la carica sta accelerando Adesso il disegno qua è un po' più difficile Adesso sto guadagnando tempo per cercare di pensare come devo fare questo disegno Non vorrei dover aprirmi il quaderno dell'anno scorso E lasciarmi ispirare dal disegno Ma vediamo un attimo Allora Io voglio Una situazione di questo Un po' Dove Fatemi pensare a come fare Allora questa è la direzione del moto E faccio un moto Accelerato Un moto rettilineo Accelerato Quindi è un'accelerazione di speed Non di direzione D'accordo? Perché ci sono anche moti accelerati Un moto rettilineo Un moto rettilineo Accelerato Allora Se la particella è qui I punti che gli sono vicini L'informazione che lui è stato accelerato I punti qua lo sanno Perché sono vicini Quindi disegno se volete Le linee di Coulomb Invece un punto distante A questo punto qua Crede di dover guardare qui Non sa ancora che la particella Si è fermata Quindi lui Sta guardando in questa direzione Quindi a un certo momento C'è una increspatura Ok? C'è una increspatura C'è una increspatura Lui Quando si sarà accorto Che la particella è qua La linea sarà questa Ma lui crede ancora di guardare qua Perché crede che la particella si trovi lì Siete d'accordo? Quindi l'informazione Che questa linea Non è qua Ma deve essere in quella direzione Gli arriva lentamente Quindi dovete immaginare Questa increspatura Che sta viaggiando Finchè non arriva finalmente l'informazione E lui guarderà finalmente La direzione giusta Cioè la particella è qua Ok? C'è una increspatura Questa è una linea di campo elettrico Che ho voluto rappresentare Quindi cosa avete? Avete per esempio Un campo elettrico qua Che è in questa direzione Che ha una componente radiale E ha una componente trasversa Adesso che colori ho scelto? Ho scelto il verde Quindi questo vuole essere la linea di campo elettrico Il verde è questo Questo è la freccia verde La freccia verde Il campo magnetico sarà sempre per simmetria In questo punto sarà uscente Quindi qua ho un campo che è così Adesso calcolate S Calcolate S adesso Com'è messo S? Perchè adesso avete questo campo magnetico Non è radiale come qua Qua è una radiale Invece là ha una componente trasversa Com'è messa S? Avete S è di là Pi è di qua E S adesso è in questa direzione È a 90 gradi Quindi è così Che coloro ho scelto? Giallo È così S è così Quindi quando io penso al mio cerchio Alla mia sfera scusatemi Guardate cosa succede La s non è più tangente all'elemento di area della superficie Questo è l'elemento di area L'elemento di area è così Vedete che io ho un flusso Tutti questi colori qua Mi stanno facendo impassire Manca 10 no? No Ok Non è più tangente Fatemi finire contro No No Addirittura è negativo Non vi pare? Facciamo una breve pausa Il messaggio è che l'increspatura L'increspatura Che qua c'è Questa è un'increspatura Vi comporta che il flusso di S è diverso da 0 Quindi se noi interpretiamo S come una specie di corrente Vuol dire che l'energia sta fluendo E da dove viene? Viene dalla particella Viene dal campo elettrico Facciamo una breve pausa